Pronta, sempre allo stagio basso, il suo esercizio è di partenza, la kippe va in verticale perfetta, il suo esercizio è di partenza, il suo esercizio è di partenza, il suo esercizio è di partenza, la kippe va in verticale, e direttamente l'uscita è in doppia avanti, brava, 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 applaude anche Enrico Casella, questo è un esercizio da primo posto, Enrico è talmente sicuro che la guarda per un attimo, poi si gira andando a riguadagnare.